Medici di base scontro sul fabbisogno dei camici bianchi. In regione hanno appena firmato una delibera con cui si bandisce 60 nuovi posti nell'ambito del corso triennale 2018-2021 per la formazione in medicina generale. Un aumento di 10 unità rispetto all'anno precedente. L'incremento c'è, ma è ritenuto esiguo a fronte di 1.572 uscite previste nei prossimi nove anni e a rischio conseguente che 1.250.000 veneti restino senza dottore. A far imbufalire i camici bianchi è anche il fatto che altre regioni del centro-nord hanno bandito molti più posti. La Lombardia 65 in più, Emilia e Toscana 20, il Piemonte ha ridotto di un'unità ma poteva contare su 120 borse di partenza. Fin qui la questione burocratica che ai cittadini a dire la verità interessa poco. A loro giustamente, come è detto più volte da Rete Veneta, interessa sapere se avranno il medico, con che orari, la disponibilità e soprattutto se potranno contare su visite a domicilio. Insomma, prima delle questioni tecniche, chi decide e chi ha la responsabilità su questo tema dovrebbe pensare ai pazienti e al loro salute.